Gabriele Di Giosì, 82 anni, originario di Cellino Attanasio, è stato travolto e ucciso da un'auto ieri mattina mentre attraversava la statale 150 a Castelnuovo, in provincia di Tenamo. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale e il sindaco di Castellalto, Aniceto Rocci, ha sottolineato la necessità di aumentare la sicurezza sulla statale 150, che collega Montorio e Roseto al casello della 14 e che attraversa diversi centri abitati e commerciali. Sì, di fatti quello che è accaduto ieri ci porta un po' indietro. Chiaro che l'amministrazione insieme anche all'Anas è stato lì sulla 150, diversi interventi fatti, a cominciare dalla Rotonda a San Cipriano, quindi la segnaletica a terra, orizzontale, verticale, i limiti di velocità, però purtroppo ancora accade questi sinistri proprio brutti, brutti come quello di ieri. Il sindaco ha ricordato che il comune ha già adottato alcune misure, come il rifacimento della segnaletica e l'installazione di autovelox, ma ha chiesto maggiori interventi da parte delle autorità competenti per prevenire altri incidenti tragici come quello di ieri. Sicuramente in quel tratto di strada c'è in programma la realizzazione di una rotonda che porta presso il nucleo industriale e presso il nuovo ponte, quindi questa potrebbe essere una soluzione per quel tratto lì. Anche se il sinistro è un sinistro brutto, un sinistro si poteva evitare, non lo so, è chiaro che una distrazione è stata fatale. Anche questo qualche volta subentra la distrazione, altri imprevisti che purtroppo è successo qualcosa di terribile. Ha sentito i familiari della vittima? Allora io sono legato ai familiari della vittima perché il signore era di Scorrano e da un paio di mesi è venuto ad abitare a Castelnuovo dalla figlia Rosanna. Quindi conosco Rosanna, conosco il marito e quindi sinceramente sono state ore strazianti. Vedere perdere un papà in quelle condizioni sicuramente è un dispiacere per tutti, per me sindaco ma per tutta la comunità castellaltesa. Grazie. 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 Grazie.